Bassano ha un cuore grande così e si prende cura dei propri bambini, anche di quelli che vivono in situazioni di temporaneo disagio nell'ambito domestico. L'esperienza del centro per l'affido del distretto dell'azienda sanitaria pedemontana conferma una crescita significativa nell'ultimo anno delle famiglie affidatarie, tanto che sono più le persone che si mettono a disposizione per ospitare rispetto all'effettiva necessità segnalata al distretto. L'anno scorso erano 63 minori in affido e il dato conferma sostanzialmente quelli del 2017 e dell'anno precedente. Il 21% dei casi riguarda progetti diurni e quindi limitati ad alcune ore della giornata, mentre il 68% delle situazioni sono residenziali e perciò più lunghe e complesse. La fascia maggiormente interessata è quella fra i 7 e gli 11 anni, ma ci sono anche bimbi con meno di tre anni dati in affido. A livello regionale Bassano si pone in una posizione molto di evidenza per quanto riguarda la forte capacità promozionale e la forte capacità di sostegno della famiglia e anche direi una forte capacità organizzativa riguardo al benessere del bambino. È una necessità, è un bisogno della popolazione sulla quale noi cerchiamo di essere non solo rispondenti ma anche di essere in grado di promuovere una cultura riguardo all'affido. Partiamo dal bisogno e dal disagio di una famiglia e da una situazione del minore che si trova in una condizione tale per la quale ha necessità di essere sostenuto. L'esperienza bassanese, data la sua importanza, verrà presentata agli addetti ai lavori domani nel corso di un convegno che si terrà in sala Martinovic.